salve a tutti e buona domenica ci ritroviamo ancora insieme per leggere per meditare il vangelo di questa domenica 28 agosto 2022 la ventiduesima del tempo ordinario come sempre alla nostra riflessione premettiamo la lettura del vangelo di questa domenica sempre tratto dal vangelo di luca il capitolo è il quattordicesimo i versetti sono il primo poi dal 7 al 14 avvenne che un sabato gesù si recò a casa di uno dei capi dei farisei per pranzare ed essi stavano ad osservarlo diceva gli invitati una parabola notando come sceglievano i primi posti quando sei invitato a nozze da qualcuno non metterti al primo posto perché non ci sia un altro invitato più degno di te e colui che ha invitato te e lui venga a dirgli cedigli il posto allora dovrai con vergogna occupare l'ultimo posto invece quando sei invitato va a metterti all'ultimo posto perché quando viene colui che ti ha invitato ti dica amico vieni più avanti allora ne avrai onore davanti a tutti i commensali perché chiunque si esalta sarà umiliato e chi si umilia sarà esaltato disse poi a colui che l'aveva invitato quando offri un pranzo una cena non invitare i tuoi amici nei tuoi fratelli nei tuoi parenti nei ricchi vicini perché a loro volta non ti invitino anch'essi e tu abbia il contraccambio al contrario quando offri un banchetto in vita poveri storpi zoppi ciechi e sarai beato perché non hanno da ricambiarti riceverai infatti la tua ricompensa alla resurrezione dei giusti nell'ascoltare questa parabola mi viene molto da da sorridere immagino la scena e davvero mi viene da ridere perché immagino prima di tutto la faccia di questo tipo di questo invitato che si è seduto ai primi posti e poi arriva il padrone di casa gli dice magari anche in maniera un po' come dire così imbarazzata gli dice guarda sei seduto qui però purtroppo questo non è il tuo posto no devi metterti più lontano dal tavolo d'onore e mi fa proprio ridere la faccia immaginare la faccia di quest'uomo che magari diventa verde dalla rabbia però non può dire niente non può agitarsi più di tanto perché deve mantenere un po' il contegno lo stile quindi con questa faccia arrabbiata deve in qualche modo mettersi lontano dal tavolo più importante ovvero mi fa molto ridere pensare alla faccia di quest'uomo oppure mi fa anche ridere pensare al fatto che se poi tutti dovessero in qualche modo ascoltare il consiglio che Gesù che Gesù dà mettiti all'ultimo posto allora immagino questo banchetto dove è un'altra cosa che mi fa davvero tanto ridere dove addirittura ci sono questi invitati che come dire si azzuffano tra di loro per occupare paradossalmente l'ultimo posto mentre invece restano liberi i posti d'onore e mi fa sempre ridere poi il fatto che magari il padrone di casa in questo caso arrivi e dica a questi invitati ma venite avanti e qui di nuovo un'altra corsa un'altra zuffa per occupare i primi posti tutto questo lo dico perché io credo che Gesù abbia davvero voluto con questa parabola essere fortemente ironico ha voluto davvero in qualche modo con grande ironia distruggere una mentalità uno stile di vita ha voluto in qualche modo indicare davvero un'altra prospettiva la questione non è occupare i primi o gli ultimi posti purtroppo il problema è che ci sia un banchetto il banchetto simboleggia la nostra società il nostro mondo quindi il problema è che ci sia un mondo dove ci sono primi posti e ultimi posti non ci siano posti uguali per tutti il problema è una società è un mondo dove ancora in qualche modo ci siano persone che possono occupare i primi posti e persone che invece devono rimanere agli ultimi posti Gesù con questa ironica parabola che a me davvero fa tanto sorridere se la immagino secondo me vuole contestare completamente questa mentalità per proporne un'altra un'altra idea di mondo ecco Gesù nel Vangelo si dice che annuncia il regno di Dio io ho sempre pensato che le parole regno di Dio si possono tradurre con un linguaggio più vicino al nostro tempo una idea di umanità un'idea di mondo una nuova idea dell'umano che Gesù viene a proporre e in questa idea in questa mentalità non ci sono primi ed ultimi posti in questa nuova idea di mondo non ci sono le tavole rettangolari dove c'è un capotavola e ci sono dei posti considerati secondari ma c'è una tavola rotonda dove tutti i posti sono uguali perché tutti equidistanti dal centro non esiste il posto d'onore ma tutti i posti sono uguali perché tutti siamo equidistanti dal centro e quando ci sentiamo tutti equidistanti dal centro e il centro della nostra vita è sicuramente Dio ecco che diventa anche più facile poter costruire la fraternità che istintivamente è sempre difficile da vivere essere fratelli è una delle cose più difficili perché i fratelli non si scelgono si ritrovano in qualche modo nello stesso spazio e nello stesso tempo non per loro scelte però si può diventare fratelli e solo se si riconosce che siamo tutti seduti ad una tavola dove non esistono posti d'onore e allora ecco la proposta che poi Gesù alla fine di questo Vangelo fa di organizzare questa festa dove vengono invitati tutti soprattutto quelli che non possono contraccambiare una festa dove soprattutto coloro che sono più deboli e più fragili ritrovano la loro dignità la loro bellezza di essere uomini di essere amati di essere invitati di essere considerati e non per quello che possono dare non per la loro posizione sociale ma semplicemente per il fatto di essere uomini ecco Gesù con questa ironica simpaticissima parabola contesta questa categoria spesso presente nelle nostre menti e nei nostri cuori che divide gli uomini a seconda della loro posizione sociale a seconda dei soldi invece apre ad un mondo dove in qualche modo quello che conta è semplicemente essere uomini avere un cuore che in qualche modo può rispondere sempre in ogni momento all'appello d'amore che Dio ci fa proviamo a davvero ad entrare sempre di più in questa nuova idea di mondo in questa nuova mentalità che Gesù propone e a partire da questa nuova logica ecco che sicuramente riusciremo a trovare le nostre azioni originali per far diventare vita concreta la mentalità la nuova mentalità di Gesù grazie a tutti per questo momento ci riaggiorniamo come sempre alla prossima settimana è davvero un grande buon cammino buon cammino Grazie.